buongiorno ma tutti gli anni ci sono sempre state le alluvioni tutti gli anni a novembre c'è stata alluvione in toscana firenze vi ricordate nel 66 e poi ad alessandria per l'altro io c'ero andato avevo messo proprio le mani nel fango sì ma non ce n'erano tre o quattro all'anno magari nel giro di due mesi per cui certo qualche cosa è qualche cosa è cambiato c'è niente da fare che il mutamento climatico drammaticamente sia in atto si poi questo a cosa porterà adesso siamo diventati tutti i meteorologi meteorologi o colonnelli dell'aeronautica questo io non lo sappiamo posso saperlo no però vedo che ogni ogni mese c'è un alluvione c'è un cugino che abita a idice e beh mi racconta cose allucinanti ovviamente ecco lui fa anche consigliere comunale a san lazaro di savena e sono tutti molto avviati ieri mi hanno mandato questo video di questo signore proprio di dice che gliene dice di tutti i colori anche l'amministrazione regionale che in effetti c'è vera la storia dei soldi non utilizzati e stanziati dal pnnr e beh insomma è grave ecco per cui non so poi quella è una zona particolarmente colpita però nel giro di due mesi sono di nuovo tutti per aria no aziende eccellenti io ho dei ricordi di di quando andai ad alessandria quando ci fu l'alluvione cos'era il 95 è veramente brutto perché vedere quello che può succedere e la disperazione che può portare mi ricordo che ad astia d'alessandria ad alba si si entrava dentro le case e dentro le case c'era solo fango non c'era più niente le persone dormivano nei treni insomma è un bisogna bisogna andarle a vedere quelle cose proprio brutto proprio brutto 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 mi ricordo io mi ero messo degli stivaloni da pescatore e mi ero tuffato a un certo punto l'autostrada si interrompeva e c'era c'era perché un pezzo era crollato e io ero arrivato c'era tutto uno sbaramento polizia pompieri elicotteri e la prima scena che vidi era un poliziotto che inseguiva pensate un vitello impazzito in autostrada e sparava i colpi per aria in aria con la pistola questo impazzito e poi c'era io ero con una fotografa che paola coletti si chiamava bravissima e io con gli stivaloni e l'acqua arrivava quasi al pelo dell'autostrada e io mi disse ma dai buttiamoci io mi buttai pensando che l'acqua arrivasse fino in cima all'inguine diciamo al massimo invece l'acqua arriva fino qua praticamente con la fotografa con la macchina fotografica così e si calpestava qualche cosa no si calpestava che scappesano cadaveri di animali e di esseri umani sentivi sotto una cosa abbastanza forte poi ogni tanto si sentiva un botto boom ed erano queste queste mucche che esplodevano no perché morte che si riempivano si riempivano si gonfiavano di acqua di gas esplodevano come delle delle bombe e poi c'erano tutte le c'era ad alba c'era la 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 fabbrica la ferrero c'era davanti alla ferrero c'era una montagna di cose mistiche di fango nutella biscotti c'era un odore stranissimo entrai di nascosto mettendomi un giubbotto della protezione civile dentro e su una barca su una barca della protezione civile facciamo le foto sotto era come era come una venezia sotterranea una cosa una cosa tremenda e poi c'erano i gli sciacalli perché succedono tutte queste cose no c'erano gli sciacalli mi ricordo che su questo suv della polizia salito di questo suv della polizia che andava a caccia di sciacalli e quando li beccavo questi sciacalli sono quelli che entravano nelle case abbandonate dalle persone scappate evacuate e piene di fango però dentro c'erano magari oggetti preziosi sciacalli che entravano a rubare quando li 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 beccavano li tonfavano di botte e secondo me facevano benissimo oggi magari arresterebbero il poliziotto che tonfa di botte il il lo sciacallo che va a rubare dentro la casa di un poveraccio che ha perso tutto ecco l'alluvione è questo l'alluvione è anche questo è quello che succede probabilmente anche in queste ore in questi giorni in emilia romagna il problema dell'emilia romagna è che ce ne sono state tre in un anno in un anno e mezzo e questo vuol dire che c'è qualche cosa che non va due cose una e riguarda riguarda comunque sostanzialmente l'uomo l'incuria e il mutamento climatico però io detto questo faccio tanti 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 cari auguri al mio cugino e gli dico che si ha bisogno di una mano io sono qua una giornata